Campagna Olearia 2020, due denunciati e un'attività chiusa, operazione dei carabinieri del centro anticrimine e natura di Agrigento. I dettagli ce li racconta ancora Angelo Roppo. E partiamo da quella segnalazione che fu fatta da Mare Amico all'Orquando. I carabinieri del centro anticrimine e natura di Agrigento, agli ordini del colonnello Vincenzo Castronovo, hanno concluso un'indagine di contrasto a reati ambientali relativa alla campagna Olearia 2020 da ottobre a dicembre e l'illecito smaltimento delle acque di vegetazione. Un opificio è stato chiuso e sono state denunciate due persone. Ai carabinieri non è sfuggita la cupa colorazione nerastra di cui si è tinta la foce del fiume Narro, nella località balneare di Lido Cannatello, circostanza peraltro denunciata anche dall'associazione ambientalista Mare Amico. E' scattata un'immediata operazione di controllo lungo l'intero fiume Narro, sia da terra che da cielo, con un aeromobile. Risalendo il fiume si è giunti al punto di immissione delle acque nerastre, ovvero il depuratore di Favara, incontrata a Chimento Burgialamone. Dalle analisi congiunte tra carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e personale dell'ARPA è emerso il malfunzionamento del depuratore, con parametri che superano abbondantemente i limiti tabellari, in particolare di oltre 34 volte per l'escherichia coli. Anche le acque di vegetazione immesse nel depuratore ne hanno compromesso la funzionalità. L'appello che si vuole lanciare in questo momento è che l'arma dei carabinieri è un'arma aperta, le nostre stazioni sono a disposizione degli imprenditori. Riteniamo, ed è un dato scientifico, che l'acqua di vegetazione e comunque il sottoprodotto della molitura delle olive possa utilmente essere impiegato nell'ambito delle attività agronomiche, come correttore di acidità, come ammendante del suolo. Pertanto può costituire una risorsa e non già un rifiuto. Quindi lo sversamento illecito è tanto pericoloso per chi lo opera, perché le pene sono severe e le sanzioni amministrative salatissime, e invece questo può costituire una risorsa anche economica. Non dimentichiamoci che i sottoprodotti della molitura delle olive vengono anche utilizzati come fonte alternativa di energia. Quindi l'appello è, laddove non si conosca la normativa, laddove l'imprenditore abbia dei dubbi, può assolutamente, anzi deve, ci fa piacere, che si raccordi con l'arma. L'arma è a disposizione per fornire qualsiasi tipo di informazione, qualsiasi tipo di consiglio, e guidare eventualmente nelle operazioni di corretto smaltimento o utilizzo di questi sottoprodotti.